Ci sarebbe una violenta lite familiare scoppiata per futili motivi alla base dell'accoltellamento avvenuto nella tarda serata di ieri in via Torino a Barcellona Pozzo di Gotto, ad avere la peggio Emanuele Maurizio Genovese, 57 anni, che secondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti sarebbe stato colpito all'addome dal nipote, anche egli rimasto ferito durante la colluttazione. Trasportato d'urgenza in ospedale, Genovese è stato sottoposto ad un intervento chirurgico molto delicato, protrattosi per oltre due ore, che comunque è perfettamente riuscito. I medici dell'ospedale Cutroni Zod hanno confermato la prognosi riservata, monitorando il decorso post-operatorio, ma c'è ottimismo sul recupero del paziente che ha subito un profondissimo taglio. Saranno le prossime 48 ore comunque a stabilire se l'uomo non corra più rischi. In ogni caso, appare chiaro che il tempestivo intervento dei sanitari del pronto soccorso ha evitato il peggio, perché il colpo all'addome poteva diventare letale. Sull'episodio continuano le indagini dei carabinieri della Compagnia di Barcellona, che dovrà ricostruire la dinamica della lite, innescata presumibilmente da una controversia di natura economica. Solo dopo verrà definito il capo di imputazioni nei confronti del responsabile dell'accoltellamento e di altre persone eventualmente coinvolte nella violenta lite. Il nipote, che avrebbe colpito il 57enne, al momento si trova ricoverato all'ospedale di Milazzo, ma le sue condizioni non appaiono gravi.